Eccoci qua. Eh, what to do? Ah, sono due gradini. Ecco, ora vediamo. Che palle merda! Posso chiederle una cosa? Sì, diciamo così. Lei mi può salvare la vita. Con molto piacere. Io mi chiamo Bernie. Io Samuel. Che nome sublime. Bello, sì. Mi può aiutare? Mi sono completamente perso. Beh, intanto non stia a sinistra perché c'è scritto keep right ovunque, quindi è meglio keep right. Gli inglesi non ci scherzano su questo, nemmeno con i turisti affascinanti. Non sono un turista. Non siamo troppo attaccati. C'è chi apprezza. Ecco, così va meglio. Conosce bene Londra. Sono 15 anni che ci abito. Lei che cosa cerca? Devo ridare una bambina alla madre che lavora da queste parti. Quale bambina? La bambina che ho... Keep right! Keep right! Keep right! No, 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 no! Keep right! Keep right! Keep right! Keep right! Keep right! Keep right! Ecco me! Ecco me! Ecco me! Sono qua! Che is good! Che is good! Che è! Yeah!